È il 1993 e ho 19 anni. Sono troppo preso dall'università, dagli amici, dalla musica e dai fumetti per accorgermi della morte di un promettente attore figlio d'arte. Leggo la notizia di sfuggita su un settimanale e me ne dispiaccio, ma in fondo la vita per me va avanti. Un anno dopo è estate e sono ospite nella casa delle vacanze di un amico. Stiamo cenando e dall'altra parte del tavolo c'è un vecchio televisore in bianco e nero. Lo teniamo acceso per compagnia più che altro. Il volume è bassissimo, quasi impercettibile. All'improvviso vedo comparire sullo schermo le immagini del trailer di un film. Un uccello nero attraversa la scena e un uomo dal volto dipinto di bianco lascia cadere un accendino sull'asfalto. Il disegno di un corvo di fuoco invade lo schermo ed è subito amore. In fondo cos'è l'amore se non semplice chimica? Fattori elementari che si fondono e creano una reazione talvolta esplosiva. L'amore deflagra come un qualunque composto. Dovevo vedere quel film. Dovevo vivere quel film. L'introduzione nostalgica era doverosa per uno dei film barra fumetto che più ha significato per me. Per me il corvo fu una folgorazione, qualcosa che lasciò il segno e dalla visione del trailer avevo bisogno assoluto di saperne di più. All'epoca internet era qualcosa che nessuno aveva in casa, si trovava solo nelle università e in pochi altri luoghi eletti. Sfortunatamente non avrei avuto accesso alla rete della mitica sala Vax della facoltà di fisica di Napoli per un altro anno e dovetti procurarmi le informazioni sul film con i vecchi metodi tradizionali, ossia riviste, amici e quel poco che filtravo dalla tv. Scoprì che quel film si intitolava Il Corvo, che era tratto da un fumetto underground, e che il protagonista era quel figlio d'arte morto in un incidente sul set un anno prima, Brandon Lee, figlio di Bruce. Nella colonna sonora c'era gentucola come Cure, Helmet, The Jesus and Mary Chain, Stone Temple Pilots, Rage Against the Machine, Pantera, Medicine e Nine Inch Nails con una cover dei Joy Division. Ogni informazione che riusciva a grattare con le unghie rendeva quel film il film della vita per un ventenne affascinato da tutto ciò che era gotico e decadente. La trama è semplice. Eric è il membro di una band, Yang Man's Joke, letteralmente lo scherzo del boia, e sta per sposare la sua fidanzata Shelly il giorno di Halloween. I due giovani vivono in un quartiere oggetto di speculazioni edilizie, ad opera dell'impero del crimine del boss della mala soprannominato Top Dollar, interpretato da un carismatico e spietato Michael Wincott. Suoi fidati scagnozzi sono i membri della gang di T-Bird, un gruppo di balordi che normalmente sfrutta per mettere in atto i suoi piani criminosi, tra cui a piccare incendi la notte di Halloween per favorire i suoi piani speculativi. A causa dell'impegno sociale di Shelly, che ha indetto una petizione in opposizione agli sfratti messi in atto nel quartiere, Top Dollar ordina a T-Bird e ai suoi di metterli a tacere. I criminali fanno quindi irruzione nell'appartamento dei due ragazzi, uccidono Eric senza nessuna pietà e violentano a turno Shelly lasciandola agonizzante. 30 ore dopo anche lei troverà la morte a causa delle ferite riportate e dello shock. Un anno dopo un corvo, traghettatore delle anime morte, riporta in vita Eric per risistemare le cose e permettergli di vendicarsi. L'uomo che esce dalla tomba non è più un essere umano, ma una sorta di zombie invulnerabile dai poteri sovrumani e completamente pazzo. Il corvo esce in un momento strano, è un prodotto anomalo per il periodo storico in cui vede la luce. Infatti nel 1994 il movimento Dark, nato negli anni 80, è completamente superato e siamo ancora lontani dall'orrido fenomeno emo che vi ha fatto eco in questi anni. La verità è che la produzione del film si è rivelata una scelta azzardata perché basata su un fumetto concepito nel lontano 1981 e commercialmente pubblicato fuori tempo massimo. Cosa aveva di particolare quell'opera quindi per generare tutto questo interesse nei produttori? Il fumetto di James O'Barr nasce come sfogo emotivo dell'autore che, a soli 18 anni, perde la fidanzata rimasta vittima di un pirata della strada non identificato. Questa tragedia spinge James ad arruolarsi nel corpo dei Marines, ma disciplina ferrea e autopunizione non gli bastano per placare i suoi sensi di colpa e la depressione. Ispirato quindi da un episodio di cronaca che vede sfortunati protagonisti una coppia di fidanzati uccisi in una rapina per un anello del valore di pochi dollari, James comincia a disegnare il corvo di getto. Il tratto è quello tipico di un disegnatore autodidatta, improvvisato, ispirato e fortemente personale. Le anatomie incerte e i tratti grotteschi dei personaggi conferiscono all'opera un fascino onirico e distorto per citare l'autore come un quadro di Bosch. Le tavole danno vita ad una vicenda di violenza assurda e insensata che fa da contraltare ad un amore talmente forte da trascendere la morte. Fortemente ispirato dal dark rock e dalla letteratura gotica e decadentista, Hobart si ispira al frontman dei Bauhaus Peter Murphy per dare vita al protagonista Eric, le cui fattezze ricordano molto anche Robert Smith, cantante dei Cure, altro gruppo cult per l'autore. L'ispirazione maggiore però è data dai Joy Division, gruppo dello sfortunato Ian Curtis, morto suicida a 24 anni e col quale James condivide il grave problema dell'epilessia. Alcuni capitoli dell'opera riportano il titolo di brani del gruppo come Dead Souls, Atmosphere, New Dawn Fades e Atrocity Exhibition e due personaggi, Hook e l'agente Albrecht, prendono i nomi rispettivamente dal bassista e dal chitarrista del gruppo. I testi di The Hanging Garden dei Cure, di Comachino degli stessi Joy Division e le poesie di Limbo segnano il passaggio da un albo all'altro, dando al fumetto un carattere marcatamente lirico e musicale ma dal fascino visivo potentissimo. Il Corvo è una vera e propria opera rock imprescindibile dalla musica che lo ha ispirato e da leggere tassativamente con la giusta colonna sonora. Una favola gotica manichea al massimo, in cui i buoni sono buoni e i cattivi lo sono fino al midollo. Un capolavoro di vendetta senza sfumature, viscerale e cruento. Il carattere fortemente lirico e non lineare, il bianco e nero e le poche garanzie di profitto, rendono il Corvo poco appetibile per vari editori e il fumetto resta in cantina per ben otto anni, fino a trovare la meritata distribuzione grazie alla casa editrice Caliber, che per difficoltà economiche non pubblica l'ultimo albo d'ho intitolato Death. Fobar si rivolge quindi a Kevin Brooks Eastman, co-creatore delle Tartarughe Ninja e fondatore della Tundra Publishing, casa editrice che, grazie ai grossi introiti derivati dalla fortunata serie dei Ninja Turtles, si può permettere di finanziare progetti di giovani e talentuosi autori emergenti. Il fumetto viene ripubblicato per intero in tre volumi nel 1991 e ha un successo fuori scala tra gli appassionati del fumetto underground. Sulla scia del successo del fumetto si decide di produrre il film. Alla regia va Alex Proyas, talentuoso regista egiziano, al suo secondo lungometraggio. La parte del protagonista viene proposta prima a River Phoenix, che morirà però per un overdose di droghe e farmaci nell'ottobre del 93. Si pensò poi a Christian Slater, che rifiuto la parte. Brandon Lee entra quindi nel cast non come prima scelta. L'attore cercava da anni un ruolo che non richiedesse soltanto lo sfoggio di arti marziali e in cui potesse dare prova delle sue doti drammatiche, oltre che le indiscusse capacità atletiche. Il Corvo rappresentava quindi un'occasione perfetta, che gli ha dato modo di regalarci una performance di notevole intensità. Le differenze col fumetto sono molte, ma c'è anche da dire che investire in un film richiede un impegno economico molto più oneroso della stampa di un fumetto. Floppare al cinema significa perdere milioni di dollari e talvolta chiudere bottega. Si decide quindi di rendere la storia più lineare, specificare chiaramente che Eric è tornato dal mondo dei morti, e dare un nome completo al personaggio aggiungendo il cognome Draven, chiaro gioco di parole, che ha assonanza completa con The Raven, famosa poesia di Edgar Allan Poe. Eric continua ad essere invulnerabile, ma laddove l'Eric fumettistico, pur non morendo, conservava sul proprio corpo gli effetti dei colpi di pistola e delle coltellate, l'Eric cinematografico ha una sorta di fattore rigenerante che rimargina ogni ferita, probabilmente un espediente per risparmiare sul make-up. Infatti The Crow non è un progetto ad alto costo, e si fa di tutto per rientrare nel budget designato. I villain del fumetto ritornano con qualche piccola modifica. Ritroviamo quindi Gideon, Fanboy, Tintin, Tom Tom, che cambia il soprannome in skank, e il capo Top Dollar, qui nei panni di un oscuro speculatore edilizio che ha un rapporto incestuoso con la sorella, stranamente di origini asiatiche, e con la quale dialoga usando frasi fatte e one-liner di grande effetto. Il film aveva ottime possibilità di successo. La sceneggiatura, seppur non priva di sbavature, prendeva spunto da un'opera ispirata che trattava argomenti di facile presa come amore, morte e vendetta. Il cast era di prim'ordine, con un regista di talento, un protagonista in parte sensuale e azzeccatissimo, una serie di caratteristi di grande professionalità a fare da contorno, dialoghi molto ben scritti, scenografie che non avrebbero sfigurato nel Batman di Tim Burton e una colonna sonora spaziale. Ma non si erano ancora fatti i conti col destino. Il 31 marzo, Brandon Lee muore in un tragico incidente sul set. Nella scena in cui il protagonista viene ucciso, Michael Messi, che interpreta il personaggio di Fanboy, impugna una 44 magnum. Quando l'attore fa fuoco, Brandon cade e non si rialza. Ci si rende conto subito che qualcosa non va e il paramedico presente sulla scena, Clyde Basie, dopo una serie veloce di esami preliminari, scopre un foro di un centimetro di diametro poco sopra l'ombelico di Lee. Brandon non riprenderà più conoscenza e morirà poche ore dopo. Ma cos'è successo di preciso? Nel cinema, quando si usano pistole con caricatori a tamburo, i cosiddetti revolver, si utilizzano due tipi di cartucce. Quelle a salve e quelli che vengono chiamati dummies, e cioè proiettili veri privati della polvere da sparo, costituiti quindi solo dal bossolo e dall'ogiva. L'utilità dei dummies è che rendono realisticamente l'effetto di una pistola carica, dato che i revolver hanno il tamburo a vista e quindi c'è bisogno che in esso, soprattutto nei primi piani, si vedano le estremità dei proiettili. I dummies hanno così un'utilità puramente estetica. Quando si tratta di dover far fuoco, invece, si utilizzano cartucce a salve, in cui l'ogiva non c'è e che generano solo il botto e la tipica fiammata. Probabilmente in una scena precedente, o addirittura in un altro film, la pistola era stata usata con dei dummies. Uno di questi dummies, montato malamente a causa del colpo ricevuto dal percussore, avrebbe rilasciato l'ogiva nella canna, che è rimasta lì, fino a quando la pistola non è finita sul set del Corvo. Si dice che quel giorno il maestro d'armi, che ha il compito di controllare e vigilare sull'uso delle armi sul set, non fosse presente e la produzione per risparmiare un giorno di riprese decise di muoversi senza di esso. Si caricò quindi la pistola con cartucce a salve e Chuck si gira. C'è da aggiungere che la polvere da sparo contenuta nelle cartucce a salve usate nei film è maggiore rispetto a quella contenuta nelle cartucce normali, perché c'è l'esigenza di drammatizzare lo sparo con un botto più forte e una fiammata più ampia. La spinta generata dallo scoppio della cartuccia a salve è bastata quindi a penetrare l'addome di Brandon Lee. Prima che si giungesse a questa versione dei fatti, molte furono le speculazioni sulla morte dell'attore ventinomenne. Si parlò di triade cinese e di yakuza giapponese, si tirò fuori anche una fantomatica maledizione sulla famiglia Lee che avrebbe colpito i primogeniti maschi fino alla terza generazione. Nel novero dei fatti che avvalorano la tesi complottistica, si cela prepotentemente il fatto che nell'ultimo combattimento di Chen, suo ultimo film uscito postumo, anche se sarebbe più adeguato definirlo posticcio, Bruce Lee interpretasse il ruolo di un attore al quale sparano sul set con una pistola vera che doveva essere caricata a salve. Una coincidenza che fa davvero gelare il sangue. Ma anche considerando questo, con tutta probabilità la risposta è quella suggerita dal proverbiale rasoio di Ockham, e cioè la più semplice. Si è trattato di un tragico e sfortunato avvenimento, una concatenazione di circostanze che irrimediabilmente ha condotto al dramma, la dimostrazione nuda e cruda che la fortuna è una puttana. Rimasto senza protagonista, il film restò in sospeso per un po' e qualche membro del cast abbandonò la produzione. L'attore Ernie Hudson, che impersonava l'agente Albrecht, dovette lasciare a causa della morte di suo cognato, e Sofia Sheenas, che interpretava Shelly, decise di tornarsene a Los Angeles. Con ovvi motivi commerciali e con il benestare della sfortunata fidanzata Eliza, che Brandon avrebbe dovuto sposare poco dopo la fine delle riprese, si decide di finire il film utilizzando controfigure e tecniche di computer grafica, all'epoca veneristiche. Ciò richiese un'ulteriore aggiunta di 8 milioni di dollari al budget, che raggiunse quindi i 15 milioni. Il risultato finale è ottimo. Le scene aggiunte funzionano alla grande e Proyas riesce a confezionare un'opera adrenalinica, visionaria e fuori dal tempo. La fotografia desaturata e filtrata in maniera tale da esaltare il rosso e le tinte scure, eliminando gli altri colori caldi, presenti solo nei flashback, conferisce a Detroit, città in cui il film è ambientato e che è stata ricostruita in parte nei capannoni degli studios, un'atmosfera marcia, triste e disperata. Un posto in cui i buoni vengono schiacciati e ogni barlume di luce soppresso. Il fascino romantico e gotico del film, l'indubbia qualità della messa in scena e l'interesse suscitato dalla vicenda umana di Brandon Lee, hanno fatto del Corvo un successo commerciale senza precedenti, che è arrivato a decuplicare il budget investito e continua a macinare soldi grazie al merchandising. La maschera dell'ironia di Eric ha ispirato milioni di giovani ed è comparsa, bianca e sorridente, in tutte le notti di Halloween dal 1993 ad oggi. Pur presentando non poche differenze con il fumetto, la mia opinione è che, in questo caso, il rapporto a volte tormentato tra fumetto e trasposizione cinematografica ha trovato un buon compromesso. La stragrande maggioranza del pubblico si è avvicinata al Corvo al cinema e poi, grazie ad esso, si è sentita spinta a leggere il fumetto, trovandosi davanti un'opera spiazzante, disuniforme e più profondamente ispirata del film stesso, vivendo quindi un'ulteriore esperienza che, seppur contigua, aggiunge molto a quella cinematografica. Il Corvo è quindi un'esperienza totale che va dal cinema alla musica al fumetto e dà la misura di come un cinecomic dovrebbe essere, e cioè un'esperienza nuova rispetto al fumetto, complementare ma diversa, come due elementi di un puzzle che combaciano ma che non sono sovrapponibili, un discorso che molti fanboys spesso faticano a comprendere. Tornando al film vorrei spendere qualche parola su alcuni dei caratteristi di grande talento che vi hanno preso parte, ma che non hanno trovato lo spazio che meritavano nella spietata arena hollywoodiana. Sorvolando sui ben noti Bailing e Ernie Hudson, partiamo da Michael Wincott. Attore canadese di origini italiane, mi è sempre piaciuto molto. Ha partecipato a grosse produzioni come The Doors, Strange Days e Robin Hood, Principe dei Ladri. Ottimo caratterista, interpreta sempre personaggi borderline e cattivi. Una sorta di Gary Oldman di serie B che avrebbe meritato maggiore attenzione. Ultimamente lo abbiamo visto in Hitchcock, film biografico sul grande regista, in cui dà vita ad Ed Gein, uno dei serial killer più famosi d'America. Secondo me una prova da Oscar. La sua interpretazione di top dollar è asciutta, senza fronzoli. Per quanto il personaggio sia poco credibile come capo di un impero del crimine con il suo look da rock star, la sua caratterizzazione è perfetta. Frase migliore? David Patrick Kelly, l'indimenticabile Luther dei Guerrieri della Notte, del grande Walter Hill, col quale ha collaborato diverse volte. Con la sua faccia emaciata, il mento prominente e le labbra sottili, è un altro cattivo perfetto. La sua frase cult nei Guerrieri della Notte ha fatto storia. Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra! Musicista, attore di teatro ed esperto di arti marziali si è fatto apprezzare in molte produzioni pur non arrivando mai dove meritava. Interpreta il capo della gang di Balor di T-Bird, prende il nome dal modello di auto che guida e tiene in liga i suoi col pugno di ferro. Frase migliore? Uno dei miei è stato trovato leggermente stecchito. Sì, e chi sarebbe? Tintin. Qualcuno gli ha piantato i suoi coltelli nei principali organi vitali in ordine alfabetico. Michael Messi, lo sfortunato attore che ha premuto il grilletto su Brandon Lee, interpreta il tossicomane fanboy. Cade in depressione subito dopo l'accaduto, eppur non essendo colpevole dell'incidente, a causa di questo non riesce più ad ottenere ruoli di rilievo. Si è visto molto negli ultimi anni partecipare a serie tv importanti come 24, Alias, Criminal Minds e Doctor House, e sembra stia cominciando a rinascere dalle proprie ceneri. Anche egli, come gli altri attori appena citati, ha una faccia da villa imperfetta, con un volto scavato e l'impenetrabile sguardo di ghiaccio. Lo abbiamo visto comparire nell'ombra nella scena dopo i titoli di coda di The Amazing Spider-Man, e probabilmente reinterpreterà il misterioso personaggio nel seguito del film. Forza, Michael, facciamo il tifo per te. Frase migliore? Schiaccia il grilletto, fanboy. Un colpo e ti togli il pensiero. Senti, io non so chi sei, ma tu sei completamente fatto. Ti sei guardata allo specchio. Nel film compaiono diversi personaggi in vari camei. Il primo da citare è lo stesso James O'Bar, inquadrato mentre ruba un televisore dopo l'esplosione del banco dei pegni di Gideon. Lo scrittore e critico cinematografico David J. Shaw, fondatore del movimento Splatterpunk, compare nella scena del massacro durante il meeting nel covo di Top Dollar. I camei migliori però restano quelli di due gruppi che hanno preso parte alla colonna sonora. I My Life with the Thrill Kill Cult, con il brano After the Flash, che si dimostrano dei veri animali da palcoscenico aiutati anche dall'ottimo montaggio, e i Medicine, con la formazione che vede Beth Thompson come lead singer, che interpretano Time Baby 2, nuova versione del brano Time Baby. Cosa strana è che nell'album invece ci finisce il brano Time Baby 3, versione ulteriormente addolcita di Time Baby 2, che vede Elisabeth Fraser dei Cocteau Twins come guest vocals. Durante l'esibizione dei My Life with the Thrill Kill Cult si vede fare surf sul pubblico anche quello che potrebbe essere Trent Razor dei Nine Inch Nails, ma chi può dirlo? Con questo credo di aver detto tutto. Non parliamo di un film, ma di un'esperienza. Chi vedesse il corvo oggi per la prima volta potrebbe trovarlo superato e banale. Chi lo rivedesse dopo anni potrebbe trovarlo invecchiato male. Io preferisco non rivederlo e conservarne il ricordo. In fondo crescendo si perde una certa linea romantica e si diventa più rubidi e io innegabilmente sono cresciuto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti